Oi gente, prima vi anticipavo nell'intro del ritorno di un concorso, un concorso speciale per tante ragioni. Non so, forse anche per l'aria che si respira, aria di familiarità, aria di serenità e il celebre concorso ippico di La Bagnaia in provincia di Siena. Proprio da oggi sul maestoso Campinerba scenderanno a scontrarsi atleti nazionali da ogni parte d'Italia fino a domenica, giornata dedicata al prestigioso Gran Premio. Sarà un nazionale a 6 stelle, in memoria del maestro Luciano Pavarotti, che fu amico di Andrea Rifeser e grande appassionato di cavalli, Andrea Rifeser padrone di casa alla Bagnaia. Il monte premi complessivo in denaro del concorso sarà di 50.000 euro e sono anche stati messi in paglio tantissimi premi in oggetto di grande valore, come un'automobile Land Rover Discovery al vincitore del Gran Premio La Nazione e una moto Honda Africa Twin al vincitore della 135 di domenica. Insomma, direi niente male. Tra il ricco palinsesto di gare, i riflettori saranno anche puntati sugli sport paralimpici. Infatti il comitato organizzatore, capitanato da Sara Rifeser, ha scelto insieme al comitato regionale Fise Toscana di dedicare uno spazio alla realtà degli sport paralimpici legati all'equitazione. Questa credo sia veramente un'iniziativa nobile, che sarebbe bello vedere anche in molti altri concorsi. Insomma, sarà quindi un weekend da favola per il folto pubblico che come sempre raggiunge la Bagnaia tra competizioni di alto livello, svago tra gli stand di prodotti di ogni genere situati vicino al campo e tra esperienze culinarie che fanno della Toscana una delle più belle terre d'Italia. Buona fortuna agli organizzatori e buon divertimento ai cavalieri e agli spettatori. Un'altra canzone per voi e torniamo tra poco per il nostro finale.